Buon pomeriggio a tutti ragazzi, allora la Francia ha battuto l'Australia 2-1 faticando ma io avevo previsto anche questa sofferenza della Francia perché comunque l'Australia è una nazionale storicamente tosta da affrontare, fisica, molto fisica. L'Italia nel 2006 eliminò l'Australia solo al 93esimo, insomma non si poteva aspettarci un 3-4-0 da Francia, impossibile. Comunque a parte questo, Pogba sembra il fratello scemo del Pogba che conoscevamo, il migliore è stato Kanté assolutamente, Bampé non è che mi piaccia tanto, cioè per carità è forte, qualitativamente valido, molto bravo, però è molto testardo, molto egoista, cerca di fare le giocate fini a se stesse e non per la squadra. Griezmann invece è un giocatore che lavora molto per la squadra, forse anche troppo, si è fatto un culo così, poi è stato sostituito giustamente, però beh comunque ci sta. Insomma per quanto riguarda il resto, ragazzi la Francia ha fatto il suo, ha vinto 2-1, faticando, poi qualcuno mi chiede ma chi è che tifferai per questo mondiale, tutte queste cose qua. Allora io per quanto riguarda il mondiale cerco di non pensare a discorsi politici, diplomatici e quant'altro, quindi quello che ha detto Macron lo lascio al di fuori del calcio. Io sono, diciamo, simpatizzo per le squadre, per le nazionali che sono forti, che sono forti, che sono qualitativamente valide e che meritano alla fine di giocarsi il mondiale. La Francia secondo me è una di queste. Non so se, ripeto, io ho detto che la Francia è la mia favorita per la vittoria finale, però sappiamo che ai mondiali, in queste competizioni qua, basta l'episodio, l'espulsione, l'infortunio, il rigore. Abbiamo visto, è stata una partita praticamente indirizzata positivamente dalla tecnologia oggi, dalla goal 9 technology, dal VAR, quindi assolutamente, però comunque sono episodi che alla fine ti possono indirizzare una partita e un mondiale. Però, io ripeto, la Francia secondo me è completa, è la squadra più completa e se non questo mondiale, fra quattro mondiali potrà essere veramente la favorita numero uno come nazionale. Giocatori giovani, forti, validi, con quattro anni in più di esperienza fra quattro anni, in Qatar, quindi... Però, a parte appunto il discorso dell'esperienza, la Francia comunque è qualitativamente forte, difensivamente forte, trasciamo un titila, come cazzo si chiama, che ha fatto una cazzata, un giocatore esperto come lui fa una cazzata del genere, veramente io l'avrei levato e basta, perché non puoi condizionarmi una partita così, è un mondiale, perché qualora non avesse vinto la Francia, ok? Non è che abbiano squadre impossibili, però sappiamo, al mondiale, ragazzi, sono partite a sé stanti e tutto può succedere in ogni partita, quindi non si può dare scontato nulla, nulla. Comunque, ripeto, adesso ci vedremo l'Argentina, l'Argentina e l'Islanda, se non sbaglio anche lì, attenzione, l'Argentina è forte, più forte, molto più forte dell'Islanda, però l'Islanda è una squadra anche lì molto fisica, un po' sulla falsa riga dell'Australia. L'Argentina, una volta sbloccata la partita, per me, potrebbe dilagare 2-3-0, non 7-8-0, però 2-3-0 può farlo, se sblocca la partita nel primo tempo. L'unica cosa che non deve fare l'Argentina, e quello che ha fatto invece la Francia oggi, è concedere calci e punizione a queste squadre qua. Cioè, è l'unico modo che hanno queste squadre qui per fare gol, o per comunque creare occasioni di gol, e tu concedi punizioni. La Francia oggi ha concesso un calcino di punizione all'Australia, una maniera, cioè, veramente ignoranza pura. Pogba non mi è piaciuto per niente, Kanté è stato il migliore, piccoletto, però corre fisico, cioè fisico nel senso che recupera molti palloni, tecnico. E veramente, infatti, se non dovesse arrivare né Pogba né Savic, il mio terzo preferito sarebbe proprio Kanté, perché è veramente valido. Ovviamente, il centrocampo da Juventus avrebbe bisogno di fisicità anche, abbiamo poca fisicità, cioè, rinvio lungo del portiere avversario, non abbiamo nessuno che colpisce di testa il pallone. Questo è quello che ci è mancato anche, o comunque quello che ci mette il fisico e fa recuperare il pallone da un rinvio avversario. Quello che ci manca a noi. Comunque, a parte questo, alla fine vittoria è meritata, perché comunque, stavo parlando con altri youtubers su WhatsApp, dicevo, l'Australia nel primo tempo ha chiuso molti ultimi passaggi della Francia, cioè, ha bloccato proprio la conclusione. L'ultimo passaggio gli arrivava proprio davanti al portiere e lì veniva salvato il pallone. E avevo detto che, secondo me, non avrebbe comunque avuto questa concentrazione fino alla fine dell'Australia. Infatti, il rigore su Griezmann netto è dovuto anche a questa mancanza di concentrazione all'inizio del secondo tempo. Comunque, detto questo, ragazzi, vi auguro buon collegio a tutti. Comunque, forse ci vediamo dopo per il video post partita di Argentina-Islanda. Vediamo, vediamo se me la vedo, soprattutto. Ci vediamo comunque al prossimo video e guardiamoci questi mondiali. Io, ripeto, questi mondiali me li sto guardando, non tifando contro uno a favore dell'altro. Me li guardo perché mi piace il calcio. Mi piacciono le grandi squadre, i grandi giocatori. Quindi, meglio, mi guardo il mondiale così tranquillamente. E adesso vediamo l'altra, una delle altre squadre favorite per la vittoria finale, l'Argentina. Cosa farà? Anche lì, l'Argentina ha molte pressioni, come ce le aveva la Francia oggi, come ce le aveva la Spagna ieri sera. Perché comunque, quando, soprattutto la partita d'esordio, tu hai la pressione di dover vincere subito dall'inizio. E questa cosa, magari un'Australia, un Portogallo o un'Islanda non ce l'hanno. E giova magari a loro, piuttosto che alla squadra favorita, tra virgolette. Quindi, quella che ha anche più pressione. Vabbè. Comunque, la Francia, avete visto che ha giocatori, comunque, molto più esperti di quelli della nazionale italiana. Giocatori che giocano, comunque, o hanno giocato in Champions League. L'Italia ha solo i giocatori della Juventus e qualcuno di Roma e Napoli, però, parlo solamente. E di fatto, hanno pochi giocatori che sanno cosa significa vincere, anche in un club, anche a livello nazionale. Parlo della nazionale italiana. Invece, la Francia, comunque, ha giocatori come Pogba, come Kanté, come Tolisso. Insomma, anche se ha fatto cagare. Comunque, cazzo, parliamo di United. E comunque, ha giocato con la Juventus, ha vinto con la Juventus Pogba. Kanté col Chelsea. Sì, col Chelsea. Ha vinto con l'Eister, se non sbaglio. E poi, Tolisso col Bayern Monaco. Quindi, sono giocatori, già il centrocampo è molto più vincente di quello della nazionale italiana. Vabbè, ci vediamo dopo. Fino al fine, sempre, comunque. Forza Juventus.